Se non trattata, l'osteoporosi rende le tue ossa fragili, come la porcellana, e questo lo spot della campagna promossa dalla Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso, in partnership con Amgem. Dal 30 settembre, infatti, e in vista della giornata mondiale dell'osteoporosi che si celebra in tutto il mondo il 20 ottobre, la firmo ha organizzato una serie di eventi di piazza per valutare il rischio e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di prevenire le fratture osse da fragilità attraverso un'alimentazione corretta, un'attività fisica regolare e un trattamento farmacologico tempestivo. Piattoforte è una campagna che andrà nelle piazze, quattro piazze italiane, Lecce, Ferrara, Cagliari e Catania e andremo a raccontare alla gente come si fa a prevenire le fratture, andremo a dire quali sono i sistemi di prevenzione, non andremo certamente a fare prescrizioni di farmaci ma solo ad informare le persone. In questo sarà attiva la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Ozzo che io presiedo, che è stata felice di accettare l'invito dell'Indusia Amgen a portare avanti questa campagna e che oggi vede il patrocinio del Ministero della Salute nella giornata che celebriamo oggi a Roma. E' molto più facile prevenire che curare, insomma questa è una regola, è la prima regola in medicina. I costi di un paziente fratturato in conseguenza di una frattura da fragilità, da osteoporosi, sono veramente alti e sono veramente impegnativi per tutto il sistema sanitario, oltre che per la famiglia che deve supportare pazienti di questo tipo. Se ovviamente riusciamo ad individuare prima questi soggetti a rischio, non è difficilissimo con le opportune correzioni che si possono apportare al nostro modo di operare, quindi informando la gente, rivolgendoci all'associazione dei pazienti, coinvolgendo i medici di famiglia, individuare quella che è la popolazione a rischio e iniziare un trattamento che sia un trattamento farmacologico ma anche e soprattutto di stile di vita, è chiaro che noi siamo nella condizione di ridurre almeno di un 30-40% questo rischio e le lascio immaginare da un punto di vista di impatto sociale cosa questo può significare. Dopo i 70 anni, una donna europea su due va incontro infatti a una frattura ossea legata all'osteoporosi. Il 66% delle donne e il 50% degli uomini sono colpiti da osteoporosi e osteopenia, cioè una massa ossea ridotta rispetto alla normalità che spesso precede l'osteoporosi. Si vive sempre più a lungo e quindi le donne devono potersi prendere cura di se stesse per garantirsi un invecchiamento in salute, ha detto il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Questa campagna rientra a pieno titolo nello spirito della giornata per la salute della donna indetta dal ministero. Molte di queste cose si possono prevenire, prevenendo la degenerazione, prevenendo questa malattia che può insorgere in monopausa, ma a volte anche prima, attraverso innanzitutto una consapevolezza di che cos'è l'osteoporosi, quando ti colpisce, come, attraverso la consapevolezza dell'importanza di un'alimentazione ricca di calcio, di vitamina D, sin dalla prima infanzia. Per questo è anche molto importante come si nutre la mamma e come venga nutrito il bambino, che non venga privato di sostanze che possono contribuire alla crescita del proprio scheletro oppure comprometterlo. E poi via dicendo questa consapevolezza che si traduce in un corretto stile di vita e anche in una prevenzione, con un coinvolgimento di tutti gli attori in campo e che quando è l'età anche cominciare a monitorare lo stato delle proprie ossa è una cosa importante. Grazie